Lo avverti anche tu? Anche adesso? Quella sorta di chiacchiericcio mentale che spesso ti elenca le cose da fare, giudica il presente, ricorda tutto quello che è successo in passato rimuginando sugli eventi, cercando spiegazioni, oppure si figura scenari futuri alimentando paure e tensioni su quello che potrebbe accadere. Ecco, in mindfulness per spiegare tutto questo si utilizza una simpatica metafora, quella della mente scimmia. Ognuno di noi avrebbe infatti una scimmietta nella propria testa che salta continuamente di ramo in ramo, di pensiero in pensiero, e a questi pensieri si collegano inevitabilmente emozioni che si susseguono e si muovono alla stessa velocità dei nostri pensieri, determinando conseguentemente anche l'instaurarsi di condizioni fisiche come ad esempio tensioni muscolari che a lungo andare possono minare il nostro benessere. Lo scopo della nostra mente scimmia ha chiaramente un fondamento positivo, che è quello di tenerci al sicuro e farci evitare, magari brutte figure, quante volte la tua scimmietta ti ha suggerito meglio lasciar perdere ma figurati non sei all'altezza, lascia stare, o pensieri di questo tipo. Ecco, sono poi molti anche i fattori che possono mandare la scimmietta in un vero e proprio cortocircuito, per esempio preoccupazioni, stress, situazioni ansiogene determinate dai life events in cui ti trovi coinvolta o coinvolto. Ecco, se questa teoria narrata dai monaci zen ha radici molto antiche, le neuroscienze moderne hanno integrato le conoscenze con ricerche in questo campo. Avrai letto anche tu infatti articoli e studi in cui si dimostra che ad esempio durante o dopo l'esercizio fisico vengono rilasciate endorfine oppure che eventi piacevoli stimolano la secrezione di serotonina e dopamina. Un momento di coccole tenerezza stimola la produzione invece di ossitocina. Ecco, tutto questo farà sostare l'organismo nel cosiddetto sistema calma e connessione. Ma per contrario, quando preoccupazioni e stress si prolungano nel tempo e quindi stimolano la scimmietta a cercare soluzioni, per risolvere problemi che possono essere reali oppure situazioni di allerta, anche immaginari o comunque di poco conto, ecco, il nostro sistema corpo-mente si predisporrà all'attacco o alla fuga innescando altresì la produzione di sostanze quali adrenalina e cortisolo. Sai, solo divenendo consapevoli di tali meccanismi riusciremo a riprendere il controllo della nostra mente, addomesticando la voce impertinente della mente scimmia ed evitando di rimanere in balia di pensieri e di emozioni e riacquisendo quindi le redini del nostro benessere e della nostra vita. Ecco quindi alcuni passi per noi adulti utili ad addomesticare la mente scimmia, così da veicolare tali insegnamenti poi anche ai nostri piccolini. Primo fra tutti, la respirazione. Fermati un attimo di tanto in tanto e presta attenzione al tuo respiro. Se sei solito attivare una respirazione superficiale e poco profonda, sappi che questa favorisce l'ansia e l'ansia mantiene ed intensifica questa respirazione, generando un circolo vizioso. Utilizza un linguaggio propositivo. Ricorda che sei tu il pilota dei tuoi pensieri e sei tu nel potere di zittire questo copilota, questa scimmietta che ti parla incessantemente. Trasforma quindi le frasi disfunzionali che riecheggiano nella tua mente in propositive. Per esempio, non sono all'altezza, in sono determinato, ho fiducia in me stesso, oppure non penso di farcela, in sono pronto, ho cercato di fare del mio meglio. Ecco, nota quali immagini mentali si associano ai pensieri e quando si attiva un pensiero disturbante, quando va in onda sul teleschermo della tua mente un film che non ti piace, mi raccomando, cambia subito canale. Non dimenticare che sei tu, sceneggiatore, regista, attore, spettatore di tutti i cortometraggi che proietti nella tua mente e puoi prendere il controllo, o meglio riprendere il controllo, impostando in positivo i tuoi dialoghi interiori e le scene associate. Rallenta poi la velocità, esci per qualche istante dalla frenesia del quotidiano, scegli tu la modalità, quella a te più efficace, per concederti e concedere alla tua mente un po' di distensione. Potrei fare un bagno caldo, una passeggiata nella natura, mentre cammini e ripeti a te stesso, sono calmo, lascia andare le tensioni, respiro pace, sono rilassato. Ecco, fammi sapere nei commenti se anche in te alberga una scimietta talvolta iperattiva e quali strategie sono a te più funzionali per riuscire a calmarla.